Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Era sindaco di Corropoli, Umberto D'Annunzis, quando investì soldi comunali superando la lentezza della provincia per ripristinare un minimo di condizioni di sicurezza del ponte sul torrente Vibrata in via Scolana, a confine con il territorio di Alba Adriatica. La piena di qualche anno fa erose la sponda nord e i lavori anticipati dal comune di Corropoli permise la riapertura al traffico dell'infrastruttura. Adesso che il ponte è completamente inagibile e i due comuni non hanno soldi per ricostruirlo, è lo stesso D'Annunzis a dover provvedere però nella veste di sottosegretario con delega alle infrastrutture della regione Abruzzo. La soluzione, l'esponente politico vibratiano, l'ha trovata. Stiamo lavorando insieme alla provincia di Teramo per reperire le risorse necessarie affinché si possa intervenire sul ponte di via Scolana, attualmente interrotto, che collega i comuni di Alba Adriatica e Corropoli al fine di dare adeguata risposta alle stanze dei cittadini, sottolinea il politico vibratiano. Si tratta di un'importante arteria di collegamento tra la strada statale 16 e la SS 259, percorsa quotidianamente da coloro che si recano presso la zona industriale di Corropoli e al servizio delle attività presenti incontrate a Basciani ad Alba Adriatica, che soffrono notevolmente per tale situazione di disagio, aggiunge ancora Umberto Rannonsis. Il sottosegretario ha tracciato la strada da percorrere, infatti attraverso un accordo con la provincia di Teramo e i comuni interessati che verranno riprogrammate risorse per circa 527 mila euro del piano triennale della viabilità regionale 2008-2010. Lo stanziamento sarà quindi destinato per l'intervento a beneficio del ponte sul Vibrata, che potrà essere realizzato con la provincia e individuato quale soggetto attuatore. Dunque la lettera congiunta inviata dalle due amministrazioni comunali alla regione e l'appello del consigliere comunale di Tortoreto Domenico Rimatteo hanno fatto breccio in regione, che ha compreso difficoltà e necessità di intervenire per ricostruire un ponte lungo una strada essenziale. I tempi non saranno brevissimi, specie per le procedure di gara ed appalto dei lavori. Il progetto prevede l'abbattimento del viadotto e la ricostruzione completa. Nel frattempo la regione ha già avviato l'iter per la rimodulazione delle risorse.